È finito i domiciliari per stalking la scorsa notte su ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP, un 50enne residente nella bassa ossola. Non si tratta però di una vicenda legata a un rapporto sentimentale finito, come spesso purtroppo accade. In questo caso la vittima dello stalking era il direttore della fabbrica nella quale il 50enne lavorava e dalla quale era stato licenziato in modo assolutamente regolare. L'operaio non si era rassegnato e perseguitava il responsabile dell'azienda, che ha sede in ossola, con messaggi chiamati addirittura minacce. I fatti risalgono a settembre 2019. I carabinieri della stazione di Premosello-Chiovenda hanno svolto le indagini. Non appena il GIP verbanese ha firmato l'ordinanza, i militari lo hanno rintracciato a Pieve Vergonte e lo hanno portato a casa sua agli arresti domiciliari.